Oh, non c'è niente di bello. Quando sei stanco sei scontroso, tutto qui. Non sono scontroso. Da indiscrezioni trappelate, sembra che ci si stia preparando alla terza guerra mondiale. Terza guerra mondiale? Trombino e Pompadour saranno giustiziati per crimini contro l'umanità. I tempi sono maturi. I quattro cavalieri avanzano nella notte. La profezia spiega le sue nere ali su di noi. Eh, mi piace quando diventi biblico, sai proprio come raffarli. No, dico sul serio, è il settimo segno, l'ultimo. Cosa? Sarà giunto il momento del nostro dominio. Eh, sì, sì, bello, come sono ingrifato, trombiamo. È possibile che pensi solo al sesso, io sto parlando di una cosa importante. Il pensiero di conquistare il mondo mi eccita, dai! A te interessa solamente il sesso. Ti amo. Vorrei poterlo credere. Che ne dici di spegnere la luce e diffonderci? Ti piace, eh, troietta?